L'account Twitter di Fabrizio Bracconeri, dopo essere stato bloccato per gli insulti razzisti, è stato riattivato. Tuttavia l'attore ha continuato con i suoi tweet provocatori. Sono tornato, merde, ha scritto sul suo profilo che è stato subito cancellato. Per quanto tempo questa volta? Per restare aggiornato sul web, iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti.